La nostra rubrica SOS Territorio oggi ci porta nel parcheggio del capolinea nord del tram, dell'ATM, per documentare quanto accaduto anche qui a seguito delle mareggiate. Le immagini che vedete fanno riferimento alla parte dell'area di sosta che si trova alle spalle del baby park. Anche qui un problema evidente di erosione, il mare ha scavato sotto il parcheggio facendo crollare una parte dell'asfalto e quasi tutto il marciapiede. Il parcheggio di interscambio, anche questo come quello di Zaira Sud ampiamente sottoutilizzato, è stato realizzato nel 2001 confermando quanto era già previsto nel piano parcheggi degli anni 90 del comune di Messina. L'inaugurazione con l'ultimazione dei lavori per il tram, gli stalli blu sono infatti a disposizione di chi lascia l'auto per servirsi del mezzo pubblico. Il parcheggio però mostra i primi segni di cedimento. Le violente mareggiate d'inizio novembre non hanno colpito infatti solo la zona sud di Messina. Anche qui le onde hanno danneggiato strutture e l'acqua guadagna metri a discapito della sicurezza. Sotto l'asfalto infatti il terreno manca in maniera sempre più preoccupante, un allarme che non va sottovalutato. Occorre agire in tempi brevi per mettere in sicurezza la struttura se si vuole salvarla. Il comune è ancora in tempo per arginare un danno che oggi può ancora essere contenuto, ma è indispensabile non perdere tempo.